Zombie Apocalypse My Home My Destiny Anticipazioni di venerdì 15 settembre 2023 Dopo che Zeynep è stata dura commedia a cena, i due cercano di parlare e di chiarirsi, lui non capisce perché lei sia così arrabbiata e sconvolta, solo per aver perso un lavoro. E lei si sente non compresa, ed anche arrabbiata, perché il marito non sembra neanche provare a capire cosa lei provi. Zeynep non tollera il fatto che lui minimizzi il suo lavoro, quando lei ha sempre dovuto sudare, e combattere, per avere quella opportunità, a differenza di lui, che ha ricevuto l'officina in eredità. Madi si scusa, e per cercare di rimediare, le dice che la ammira, e che lui ci sarà sempre per lei. Zeynep, però, non è più sicura di questo, perché dopo aver visto il suo attacco d'Ira contro Buran, ha paura di non potersi fidare di lui e del suo giudizio. I toni si attenuano, e così Zeynep gli ricorda che lui si prodiga sempre per gli altri, affinché non si sentano soli e senza protezione, ma deve rendersi conto, che anche lui non è solo, e che può contare su di lei. Lei capisce il suo orgoglio, e il suo senso del dovere, ma non può rimanere bloccato nel passato. Devono guardare insieme al futuro, e affinché questo avvenga, deve cominciare a lasciarsi alle spalle vicende come quella di Buran, e credere di più in lei. Madi non sembra convinto, e si ritira in camera. La mattina dopo, mentre Emine è in casa, apprende dalla televisione che Faruk si sposerà con Selina. La notizia viene infatti data proprio in tv, durante una conferenza stampa, visto che i due, essendo figli di due grandi uomini della finanza turca, sono sotto osservazione mediatica. Emine rimane sconvolta e senza parole. La rivediamo poco dopo, nella casa messa a soccuadro, tutti i bei vestiti, e regali di Faruk, sono sparsi per terra, ed Emine, con i suoi vecchi vestiti, abbandona quella casa, non portandosi nulla, dicendo addio per sempre, sia a Faruk, che alla vita che aveva sempre sognato. Medi, andato da Sultan per controllare se lei e Benal avessero bisogno di qualcosa, trova risposta negativa. Infatti, poco prima, girando per il mercato, Medi si è reso conto che l'agente del quartiere, sta iniziando a non avere più bisogno di lui, visto che Buran sta piano piano prendendo il suo posto. Benal, che conosce Medi, cerca in qualche modo di consolarlo, ma senza risultati. Infatti, Medi va via, sotto lo sguardo ancora innamorato di Benal. Gemile cammina per strada con un vassoio tra le mani, diretta verso il negozio di Nu. La ragazza, infatti, gli porta un vassoio di dolci fatti in casa, da vendere all'interno del locale. Parlando del più e del meno, Nu chiede a Gemile di uscire, magari per un tè. Subito, la ragazza sospetta che sia un pretesto, per dimenticare più facilmente l'amore per Emine, ma Nu la rassicura, Emine è ormai storia passata, e lui è pronto ad andare avanti. Gemile, così, è rassicurata dalle sue parole e dal suo atteggiamento, e accetta l'invito di Nu, poi i due si separano con sguardi speranzosi e rivolti verso il futuro. Zeynep si presenta a casa di Sultan, per ringraziarla del fatto di aver accolto Benal in casa, nonostante sappia che non nutra molta simpatia per lei. Ad accoglierla è proprio Benal, che non le risparmia uno sguardo seccato e provocatorio. Zeynep, però, ha l'occasione di parlare finalmente con Sultan riguardo Buran, chiedendole quali siano i veri attriti tra lui e Medi. Sultan, racconta che Medi e Buran, da piccoli, erano molto uniti, quasi fratelli, quando poi però, i loro padri si scontrarono, portando alla morte del padre di Medi. Il ragazzo, cominciò a trattare Buran solo come il figlio dell'uomo che uccise suo padre. Medi escluse totalmente tanto Buran, dalla sua vita, che anche il quartiere reagì di conseguenza, emarginando sempre di più il ragazzo, tanto da spingerlo a trasferirsi all'estero. Zeynep, capendo che Medi ha attribuito le colpe del padre al figlio, non è affatto rincuorata. Nel frattempo, Emine torna nel quartiere, dove camminando verso casa di Sultan, le donne non le risparmiano frasi di giudizio e scherno. Dal momento che tutti hanno visto in diretta televisiva il fidanzamento di Farouk, giunta a casa, quindi, Emine è subito accolta a braccia aperte da Sultan. Diversamente però, Zeynep, non è ancora disposta a riallacciare i rapporti con la sua vecchia amica. Emine, trova però la comprensione di Benal, che a sua volta, ha visto il suo grande amore, Medi, sposare Zeynep, comprendendo così il suo dolore nell'essere stata abbandonata per un'altra donna. Tornata a casa, Zeynep si prepara, e parlando al telefono, si capisce che sta nuovamente andando allo studio legale per parlare con Baris. Mujgan riesce a carpire questa informazione, e quando rientra Medi in casa, lo informa del fatto che la moglie sia diretta verso un certo Baris, che nessuno dei due conosce. Nel frattempo, mentre Sultan cammina per strada, viene avvicinata da due donne del quartiere, che cercano di giudicare la sua tragica situazione, ovvero quella del disonore Chiemine, credutasi promessa sposa e poi abbandonata, ha portato a se stessa, e soprattutto a lei. Sultan però, non si lascia assolutamente intimidire dai bigotti giudizi delle donne, e difende a spada tratta l'amata figlia. Zeynep, giunta allo studio legale, chiede di parlare con Baris, impegnato in un'intervista televisiva. Così si introduce di nascosto nella sala dove avviene l'intervista, per ascoltare cosa abbia da dire l'uomo che l'ha licenziata. Zeynep, ascoltando l'intervista, rimane genuinamente ispirata dalle parole dell'uomo, che esprime il concetto di come sia notevolmente più importante essere rispettati, piuttosto che amati, di come sia giusto ascoltare i consigli altrui, senza però seguirli, tenendo sempre fede al proprio io e ai propri obiettivi di vita. Alla fine dell'intervista, Zeynep decide di cogliere la palla al balzo, e parlare nuovamente con Baris nella speranza di riottenere il suo lavoro. Baris non ha alcuna intenzione di dare un'altra possibilità a Zeynep. L'uomo ha un carattere deciso, e difficilmente riesce a tornare sui suoi passi. Ma si trova davanti una Zeynep più determinata che Mai, e che lo sfida addirittura. Lei infatti, gli dice di essere una donna decisa, e che, avendo rischiato molto nella vita, non ha paura di rischiare anche questa volta, assumendosi tutte le sue responsabilità, e impegnandosi al massimo qualora arrivasse il suo lavoro nello studio. Ma Baris, elogiando se stesso e il suo lavoro, le ribadisce il fatto che non ha intenzione di darle un'altra possibilità, e aggiunge che, al contrario di lei, lui non ha mai i rischi, e riassumerla lo sarebbe. Zeynep, trovandosi davanti a un ulteriore rifiuto, decide di sminuirlo, dandogli non troppo velatamente dell'ottuso. Infatti, gli dice che se per entrambi il mondo è rotondo, e ricco di sorprese, nella sua mente il mondo può essere solo quadrato. Medi va a trovare Nu al negozio, e scopre che l'amico ha appena venduto la sua attività, e Medi chiede quindi a chi l'abbia venduta. E quando Nu gli risponde che ha venduto il suo negozio a Buran, Medi reagisce in maniera sia delusa che arrabbiata, decidendo di andare via, senza neanche discutere con l'amico. Nu però, non ci sta, e lo segue per chiarire la questione. Medi è offeso e arrabbiato, perché ha visto il gesto di Nu come una sorta di tradimento, poteva vendere a chiunque, ma ha deciso di vendere proprio a Buran, il figlio dell'uomo che ha ucciso suo padre. Per Nu la questione è diversa, lui ha venduto a Buran perché l'uomo ha triplicato l'offerta di vendita, ed essendo una questione meramente economica, non si aspettava che lui, invece di comprendere le sue scelte, le giudicasse e si arrabbiasse. Medi non ha alcuna intenzione di ascoltare le ragioni di Nu, che ormai reputa un traditore, e arriva addirittura a minacciare di colpirlo. Nu è ormai stanco dell'atteggiamento da protagonista dell'amico, lui è sempre stato pronto a comprenderlo, ed assisterlo anche nei momenti più difficili, ma non vede nell'amico la stessa devozione, sentendosi sempre un gradino più in basso di lui, non compreso e non considerato. Medi ascoltando ciò che nu esprime, non trova più parole di scuse o di conforto per lui, anzi, gli dice di essere un uomo senza spina dorsale. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.